Pronto? A batteria veniamo se ci vende. Benzina bisogna niente. Poi Francesco, non c'è. Io che ti veda... Mi veda che io andate qui. Posso soltare l'ingegnere Borghieri? Posso soltare l'ingegnere Borghieri? Ciao! Ciao Mauro. Dalla Sicilia. Dalla Sicilia. Dalla Sicilia. Dalla Sciacca. Da Sciacca e Ribera. Se viene qua ti ospitiamo noi. Ciao Mauro. Va bene.